Buongiorno a tutti da Liuk65, come ha detto una persona molto simpatica sul web Liuk65, sono italiano e quindi 65. Buongiorno a tutti con un video, un saluto a Ludo a cui comunico che la live non si può fare perché gli orari non sono compatibili con le esigenze della persona che ci ospita, quindi gli orari non sono compatibili. Bisognerà trovare degli altri orari, non lo so, piuttosto facciamola di sera e me la farò andare bene io dopo le 9, magari avresti i problemi tu perché mangi più tardi, cazzo. Niente, il destino ci mette tutti gli astri contro, ma comunque ce la faremo lo stesso, troveremo il modo di fare una live ieri, eri, nella chat, noi non ti potevamo vedere, non eri l'unico, quindi qualcuno che era arrivato a sentire due poveracci che parlavano c'era. Io non mi sarei fatto i problemi comunque perché sapevo che era, non è semplice andare così, abbraccio, ma la persona che ci ha ospitato è stata, che mi ha ospitato, è stata bravissima, e quindi un grazie a Periferico. E quindi che cosa dire? Cosa ho visto ieri sera? Grandissimo film, un grandissimo film, che mi sono registrato, avevo già visto e mi ha fatto impazzire rivederlo un'altra volta, un film di Tarantino, di Eightful Eight. Avevo perso un pochettino memoria della trama, a Grandinini la ricordavo, ma andare a vedere ancora tutto quanto mi ha fatto molto piacere, è sempre una guia per gli occhi, cioè secondo me da quando inizia il film con la croce di Gesù Cristo intarsiato nel legno, riempito dalla neve, che poi si rivedrà nel flashback con molta meno neve, perché Tarantino non si fa mai sfuggire i dettagli, e Tarantino è scuola Sergio Leone, quindi tutti i vari dettagli, gli stivali, piuttosto che inquadrare le persone, preferiva inquadrare dei dettagli che le definivano, che le... gli davano suspense, perché tu guardi gli stivali dei quattro della banda e la tua mente come nei fumetti va quando arrivi a fine pagina, pensa, c'è una certa suspense, e poi gli svela i volti, perché c'è sempre un minimo che una persona pensa che ci sia qualcuno di diverso, qualcuno che non pensava, quindi è un grande maestro della suspense, un po' anche alla Hitchcock, se può dire, o esagero, ma questo me lo dovrai dire tu. E quindi, oltre alle musiche bellissime di Ennio Morricone, una musica molto greve, molto ritmata, che comunque ci stava alla grandissima, una grande Jennifer Jesus Leuth, che prende un sacco di botte dall'inizio del film fino alla fine, una dimostrazione che all'epoca probabilmente qualcuno di perdere i denti non ci badava più di tanto, e una chicca che magari non sapevi, che magari non sapevi, una chicca che però ho saputo da mia moglie, che non la sapevo nemmeno io. La famosa scena della chitarra, quando la condannata ad essere impiccata chiede di suonare la chitarra, prende una chitarra che è veramente una chitarra del 1870, presa da un museo, Tarantino voleva un suono di una chitarra dell'epoca, si fece prestare da questo museo, una chitarra originale del 1870. Ovviamente in scena ci sarebbe dovuta andare poi anche la versione finta, il problema è che quando Kurt Russell, il cacciatore di taglie, il boia, la rompe, rompe quella vera, e il grido di Jennifer Jesus Leuth è di reale disappunto, perché poi succederanno un sacco di casini e dovranno rimborsare il museo, che ovviamente non sarà contento della cosa. Forse avrebbe dovuto usare una chitarra normale, nessuno se ne sarebbe accorto. Sono le follie, le follie tarantiniane del cinema, che però fanno ridere se non sei il proprietario della chitarra. E quindi è un delirio, una storia delirante, una storia delirante con un sacco di elementi umoristici, la contrapposizione tra caramelle, le caramelle dei bambini, le caramelle, arrivano a questi quattro fuorilegge, alla fine dopo che si sono sistemati da Sweet Dave e Minnie, chiedono delle caramelle, le caramelle sono tipiche dei bambini, no? I bambini sono il simbolo dell'innocenza, ma non passano nemmeno e quindi sono persone inoffensive, che pensano ai dolci, no? Fredderanno tutte quante le persone, tranne una, nel giro di due minuti e i poveracci dell'emporio moriranno senza sapere perché, perché? Perché i dialoghi di Sarantino, perché Tantino, nelle sue sceneggiature deliranti, fa dei dialoghi come se tu prendessi la gente per la strada, cioè qualsiasi cosa anche che non c'entra con il film, viene inserita, quindi da Clerks in poi i dialoghi sono a braccio, ci trovi di tutto, è proprio questo il bello, perché tu non hai mai, devi sempre, sei sempre sorpreso da quello, dalle magie che lui ti metterà sullo schermo e quindi ammazzano tutti, i quattro, ovviamente questa è una parte, è la parte finale del film, in cui scopriamo la banda che vuole liberare la donna che sta per essere portata a Red Rock, a Red Rock, ad essere impiccata dal boia che l'ha catturata, e in questo film tu ti chiedi sempre chi siano i buoni e chi siano i cattivi, chi è buono in questo film? non ci sono buoni, non ci sono buoni, era un'epoca dura, l'Ouest in cui... dove oggi vedi dei litigi infantili sul web, sul web, cose che onestamente ti fanno piegare in due da ridere, lì proprio... ci bastava poco e ti prendevi una pallottola, o le varie scemenze che vedi in televisione dove si scannano mentre stanno dicendo la stessa cosa perché non si capiscono, nel West, parlavano le pistole, chi era più veloce, o magari chi ti sparava le spalle, o all'improvviso, un'epoca dura in cui tu, hai tutti i personaggi duri, tutti i personaggi che devono sopravvivere, devono avere il pelo sullo stomaco, quindi i buoni non esistono, e quei pochi buoni che ci sono sono destinati a soccombere, e lui fa un affresco perfetto, perfetto, alla Sergio Leone, di quello che doveva essere quel mondo, quel mondo, pur senza l'erlo visto, ma essendosi molto documentato, un mondo che a volte noi confondiamo con i film di John Wayne, gli eroi, era molto peggio, era molto peggio, era molto peggio, non erano alti, non erano belli, non erano forti, alle volte erano senza denti, alle volte erano denutriti, magri, brutti, e quindi interpretazioni magistrali di Tim Roth, con i suoi occhi da squalo, agli occhi fissi come gli occhi della morte, quando ti fissa, e non ha nessuna emozione, gli occhi dello squalo, quando ammazza l'attizia nera dell'emporio, o la faccia di Madsen, che fino a un minuto prima ha offerto una caramella, una una stecca di di menta a giudice sei cavalli, e poi nonostante lei chiedesse pietà, gli spara, ma cattivi sono pure tutti gli altri, chi perché era suddista, chi perché era suddista ed è stato generale ed è stato sconfitto, chi perché era nero e ha dovuto farsi la cotenna, chi perché si era vendicato, tutti, insomma, non si salva nessuno al punto che la condannata a morte ci sta benissimo in mezzo a loro, è una di loro, è una di loro, a volte ci si chiede, ma perché cazzo deve essere condannata a morte se gli altri a volte sono anche, forse sono anche peggio, peggio, perché perché ha una taglia sulla testa e gli altri no, oppure gli altri non si sono fatti prendere, in tutta questa salabanda di cose Tarantino ha infilato anche la lettera di Lincoln, la fantomatica lettera di Lincoln, a far capire che nonostante tutto loro ha, per loro il presidente degli Stati Uniti è il presidente degli Stati Uniti, una persona per cui tutti si fermano e provano rispetto e questo ovviamente il nero lo sapeva e non si saprà mai fino alla fine del film se la cosa è vera o è falsa perché è il dubbio che potesse anche essere vera, c'è un film quindi magistrale, secondo me uno dei migliori film di Tarantino, poi la gente farà le sue classifiche, quello che cacchio vuole, a me le classifiche non piacciono e ci sono stati film di Tarantino che mi hanno mi sono piaciuti ma mi hanno soddisfatto meno di questo perché amo le atmosfere western, amo i cattivi, come ben sai dico sempre che io amo i cattivi e Tarantino è uno che i cattivi li sa mettere benissimo in scena perché sono cattivi proprio veri e qua ha messo in scena soltanto cattivi e quindi per me è una godura per gli occhi quindi a tutti quelli che non hanno visto The Eightful Eight una storia che si svolge tutta in poche ore anche se sembra passino degli anni in mezzo ad un'atmosfera glaciale il film è stato girato a Tellurido in Colorado la neve è vera il freddo che provano è vero e si prova freddo pure a guardarli un consiglio a tutti guardate il film di Tarantino un saluto dalla Juke 65 di Tarantino